Riccardo Lorenzino, APAX editore, ha curato per il Comitato Colle dell'Is l'allestimento nuovo al primo piano dell'ecomuseo. Fonti e narrazioni storiche, un lavoro interessante e molto approfondito. Sì, vi ringrazio. Sicuramente il lavoro che è stato fatto è stato quasi un momento di autocoscienza da parte del Comitato. Abbiamo aiutato a percepire qual era il proprio patrimonio. E quindi abbiamo lavorato questo primo pezzo della mostra, è proprio un racconto di che cosa abbiamo trovato, di che cosa è stato fatto in questi 70 anni, perché poi alla fine tra l'Associazione e il Comitato, eccetera, è un discorso culturale che si sviluppa su un lungo periodo. E c'è un'intima coerenza che abbiamo in qualche modo fatto emergere. Infatti, se mi permettete di far notare come ci sono veramente i pilastri di un istituto di cultura, un archivio che è quello del Comitato, archivi personali, perché l'ecomuseo è riuscito a essere attrattore di beni culturali che erano attenenti alla propria mission. L'archivio fotografico, poi l'archivio sonoro audio-video che è in corso di riordino, e poi le biblioteche, nel senso che ci sono più biblioteche tematiche a cui si può far riferimento. Quindi, come vedete, il riordino che abbiamo in qualche modo iniziato, infatti sta lavorando in questo momento, sta concludendo il lavoro un archivista molto brava, Alessia Francone, che ha in qualche modo riordinato le carte permettendo anche ai membri del Comitato di lavorare ancora meglio sulle fonti. Abbiamo anche però una parte sui sentieri, i sentieri della Resistenza, che rientra nel piano tematico che si chiama Pace, un nome simbolico e evocativo, finanziato dal programma Alcotra, in cui Città Metropolitana è impegnata. E qui, dall'ecomuseo, partono i sentieri sui quali stiamo lavorando. Infatti, Marcos Weizzer, che è stato un po' l'animatore di questo lavoro fatto all'interno del Comitato, nelle varie postazioni che ci sono, che sono appunto postazioni multimediali in autosomministrazione, possono andare a vedere quali sono questi sentieri e il livello di difficoltà. Quindi c'è veramente un forte legame con il territorio da un punto di vista anche ambientale e turistico. Credo che questo sia importante anche per quella visione dei luoghi della Resistenza, che sono dei luoghi sostanzialmente immateriali. E c'è questa frase molto bella che dice che è bello commemorarli camminando. Credo che sia illuminante rispetto a un atteggiamento pedagogico molto sano rispetto alla commemorazione. Quindi credo che questo dibattito molto concreto, molto contemporaneo, veda nel Comitato del Collegis e in questo progetto specifico un punto di vista estremamente interessante.